È uscito il numero di marzo di Chiesa Insieme contenente il messaggio inviato dal Padre Vescovo alla comunità diocesana per il tempo di Quaresima. Il notiziario storico della Diocesi è un mensile che racconta i principali fatti accaduti nel periodo di riferimento, annuncia le iniziative future e le attività dei vari uffici e parrocchie diocesani. Tra gli argomenti di questo mese è un focus dedicato alle comunità Maria Famiglia del Vangelo, alcune pagine in primo piano, le parabole mediatiche del direttore Monsignor Vittorio Peri, spazi dedicati alla visita pastorale, alle parrocchie, alla cultura, alla solennità del patrono di Nocera Umbra e compatrono della Diocesi San Rinaldo, festeggiata il 9 febbraio e molto altro. Per ricevere a casa il mensile è necessario fare l'abbonamento annuale del costo di 20 euro telefonando al numero 075 812483 oppure scrivendo a amministrazione2-diocesiassisi.it o segreteria-diocesiassisi.com indicando nei propri dati l'indirizzo dove si intende ricevere il mensile.